Mancano quasi otto mesi alle elezioni amministrative e forse quest'ultima settimana di agosto è l'ultimo momento in cui a fiume freddo di Sicilia si può giocare a carte coperte. Già dai prossimi giorni si capirà se l'attuale maggioranza è veramente fedele al sindaco Marco Alosi oppure i riposizionamenti sono già cominciati. La settimana prossima la maggioranza si ritroverà per fare il punto della situazione su eventuali nuove sedute di consiglio comunale da convocare. Un consiglio che ancora non ha approvato neanche il conto consuntivo 2015 mentre il bilancio di previsione neanche si intravete. Ancora nessun accordo nei pressi di Viadana neanche per quel che riguarda il piano triennale delle opere pubbliche che un mese fa ha diviso la coalizione facendo intravedere sintomi di crisi solo formalmente smentiti.